Come abbiamo già parlato, è un'aula a corvo del carbonare, alla volta avvolte, in origine aveva anche dei finestroni di cernai, quello che voi vedete sulla vostra destra, chiaramente chiusi al momento in cui questo nitreo viene trasformato in nitreo per avere una luce soffusa, e ci sono questi tipici balconi laterali.